Il marchio tagliatore Il tagliatore viene fuori dal soprannome di mio nonno che era un tagliatore di tomai e di scarpe quindi abbiamo continuato con questa storia cercare di portare avanti il nostro nome in modo diverso Allo stile di tagliatore è uno stile che va avanti da 20 anni ed è uno stile un po' particolare perché comunque abbiamo sempre avuto la voglia e la forza se vogliamo adesso magari un po' meno ma quando abbiamo iniziato era duro andare avanti con queste giacche un po' sfiancate quando abbiamo iniziato tutti portavano le giacche larghe noi abbiamo insistito e oggi ci ha dato ragione A Pitti quest'anno abbiamo portato sicuramente tante giacche leggere quest'anno il tema del Pitti e il tema della mia collezione è la leggerezza abbiamo fatto tutti questi tessuti giro inglese che è un tipo di trattamento che viene fatto al tessuto è un tessuto che viene ritorto e poi assume questo aspetto che assomiglia un po' a una maglia e allo stesso tempo diventa confortevole e leggero poi anche a livello di costruzione abbiamo tenuto tutto molto leggero abbiamo fatto in modo che abbiamo messo all'interno della giacca il minimo indispensabile senza fodere le maniche, senza paramonture larghe quindi leggerissima, tutto made in Italy Grazie a tutti 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 Grazie a tutti